Buonasera, siamo qui con il primo allenatore Giorgio Nibbio e il capitano Giulia Malvicini. Giorgio, che cosa ci dici della partita di sabato? Bellissima domanda. Avidata è una squadra giovane, un progetto giovanile come il nostro, quindi sappiamo poco di questa squadra, ma dobbiamo pensare soprattutto ai nostri progressi e vediamo di fare una buona partita in casa. Giulia, faremo l'esordio casalingo, come l'hai vista in settimana la squadra? Beh, l'ho vista bene, siamo cariche perché non vediamo l'ora di dimostrare quello che sappiamo fare nel nostro palazzetto. Ok, siamo tutti carichi, tutti pronti, ci vediamo sabato al palazzetto, forza Promoball! Ciao! Grazie a tutti!